Spazzate via il nemico prima che i rinforzi finiscano. Spazzate via il nemico. Spazzate via il nemico. Spazzate via il nemico. Spazzate via il nemico. Sì Stanno conquistando il potenziamento Gli alleati hanno il potenziamento Agente a terra Chiesto assistenza medica immediata Ritornimenti speciali in arrivo È in corso il recupero dei ritorni Agente a terra Ritornimenti recuperati A un agente serve aiuto Agente a terra Siete a metà combattimento Grave trauma Agente a terra Agente a terra Assistenza medica immediata Propriano del potenziamento Gli alleati stanno conquistando il potenziamento Il potenziamento è in mano alleata Ben fatto Gli alleati stanno conquistando il potenziamento Gli alleati stanno conquistando il potenziamento